Il giro del mondo attraverso la vita. Si può fare il giro del mondo anche stando a casa? Si può fare il giro del mondo anche senza prendere l'aereo? L'essere umano è così fatto da poter fare il giro del mondo perché quando si parla di razza la razza umana è una sola e ognuno di noi è particolare si porta la sua maschera la sua persona il suo naso il suo colore i suoi occhi il giro del mondo alla scoperta dei colori i colori della vita i colori del mondo i colori dei popoli i colori ci fanno scoprire quel senso della vita nascosto ecco perché lo usiamo come simbologia il bianco come purezza e perfezione il rosso come amore e vita e spesso sono loro che trovano noi non il contrario è uno di che colore sei noi possiamo essere di qualsiasi colore che vogliamo e così possiamo rendere il mondo di qualsiasi colore che vogliamo tocca a noi colorare il mondo tocca a noi rendere bello il mondo rendere bello tutto quello che ci tutto quello che c'è attorno a noi il giro del mondo vuole semplicemente dire che il mondo lo facciamo noi che il mondo dipende da noi noi siamo gialli blu neri verdi arancioni bianchi tutto dipende da noi perché noi abbiamo la capacità di prendere qualsiasi colore noi abbiamo la capacità di rovinare o di rendere bello il mondo noi abbiamo la capacità di rovinare o di rendere belli quelli che sono attorno a noi quelli che vivono con noi se oggi per caso vi dicessero non c'è più il burundi cosa cambia per la vostra vita non c'è più l'albania è sparita la città di firenze spesso abbiamo tendenza di pensare che quando sparisce quelli che ci sono vicini sparisce il mondo no il mondo sparisce anche quando spariscono quelli che sono lontani da noi perché l'essere umano la capacità universale di amare l'altro e di essere l'altro è quello che ci proietta a essere l'altro a provare quel sentimento di pace o di amore verso gli altri o di preoccupazione quando gli altri non stanno bene è quello che ci rende mondiali è quello che ci rende divini questa capacità nostra che abbiamo di girare il mondo i bambini ce l'hanno ancora di più di colorare il mondo di renderlo bello ecco perché noi diciamo c'era una volta c'era una volta dove il mondo era bello tutto era possibile adesso c'è un mondo dove c'è il fuoco che ti brucia c'è l'acqua che ti bagna noi desideriamo ritornare a quel mondo quello di una volta bello e perfetto dove parlare anche con i sassi è possibile possiamo cominciare anche domani il giro del mondo attraverso la vita coloriamo la vita nostra e quella degli altri grazie